Ciao, buona giornata a tutti, benvenuti sulla pagina di Teresa Bandera, eccoci qua a sera un piccolo bucchè per nozze, con delle rose rosa, frutteto, metteremo intercalato un po' di pitosporo variegato e in chiusura metteremo delle aspidistrie, che andiamo già a dividere, come avete già visto, preparerò qualche foglia e dopo ne andremo a preparare delle altre. Buonasera a tutti, eccoci qua, vedete? Che classe, come rompe lui le foglie nessuno. Ma cosa ho detto? So già dove vuoi arrivare. Allora, via, partiamo. Altro rullo di tamburi, ciao Lorella. Ciao Lorella. E buonasera Rosella. Ciao Rosella. Bene arrivate ragazze. Ok, allora partiamo. Partiamo? Dove andiamo? Nessuna parte. Partiamo nel senso oggi. In generale. Ciao Paola, ben arrivata. Ciao Paola. Allora, bucchè? Bucchè per una sposa. Piccolo eh? Piccolo, rase rosa, che belle ci dice Lorella, vero? Non le classiche bianche. Molto belle. Piccolo ma compatto? Piccolo ma compatto, sì. Meri, ridi poco perché tra un'ora si inizia il corso e ti dirò. Non vorrei essere nei tuoi panni. Stasera sei sotto le mie grinfie. Sotto le mie grinfie. Ai, 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 ai. Poi stasera puoi lavorare eh? Abbiamo il benestare. Stasera può lavorare. Sì, della fisioterapista. Per la gioia di Max eh? Stasera nessuno. Per la gioia di Max stasera può lavorare. Esatto. Ciao Bruna. Ciao Bruna. Allora, vediamo un po'. Mi fa male il polso. Ecco. Si prepara già eh? Si è già preparata lei. Mi fa male il polso. Non posso. Eh, c'ho il dito infiammato. Guarda qui che ferita. Eh? Vabbè. Ciao Maria. Ciao Maria. Non posso. Eh, si mette a ridere. Alla, va, là, va, là. Ciao, dammi un'altra. Di che cosa amore mio? Rosa. Rosa lunga, corta, aperta, chiusa. Corta. Corta e aperta. Eh, aperta non tanto. Vedete se riesco a fare un bel cerchio. Eh, eh, a volte le rose, ecco. Sì, così sì. Quante sono? Perfetto. Ok. Allora, così. Adesso vai a sistemare le foglie di aspidistria sotto che... Adesso andiamo a sistemare le foglie di aspidistria. Che Marco... Devo ancora capire come le sistema. Sì. Ma così come ti vengono. Non hai una tecnica. Che senso? Le intrecci vanno? Ah, le intrecci... Oh, ci scrive che lei non si lamenta mai. No, oh, 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 oh. E lo sapete? Lei non si lamenta mai. Bombo lo scrivo, eh? Vabbè, vabbè, dai. Scherzo, Melina. Ah, sì, sì, la si prende in giro. Io mi sposerei ancora solo per il bouquet. Anch'io avevo il bouquet con le rose rosa e l'Iriziantus. Che ricordi? Chi è? Eh... L'Orella. L'Orella. Auguri alla sposa. Grazie, Paola. Grazie. Ma mi sa che non ci sente, nel senso che... Non ci segue? Non ci segue, esatto. Oh, bandera. Oh, bandera. Sì, sì. Vedrai, vedrai stasera. I gambi poi li tieni lunghi o li accorci e sotto? Come li finirai? Li accorcio, devono stare in mano, nel senso di dire... Non si devono vedere, ok. Esatto, devono essere tagliati così. Perfetto. E poi viene messo solo un nastrino in chiusura qui e poi delle code che scendono. Perfetto. Perché a volte c'è chi lo vuole tipo centro abbastanza lungo, allora... Certo. Mi sono permessa di farti questa domanda per... Assolutamente. Ecco. La rafia te la sei preparata? Sì. Molto bene. La rafia l'ho preparata. Questa ho fatta una foglia. Andiamo a riprenderla. Andiamo a prendere ancora un'altra foglia. Qui. Allora, signore. Signore, signore. Allora, vediamo un po', adesso andiamo a pareggiare bene le rose. Ne vuoi un'altra? Sì, ce ne avrà un'altra per forza. Aspetta. Ce ne avrà un'altra per forza. Piccolina. Brava. Allora, Bruna ci scrive, il mio era con le roselline rosa, la fresia bianca e felce come verde. Bello. I classici. I classici bouquet. Che Bruna ti dirò si usano ancora, eh? Eh, anche se adesso le queste spose preferiscono magari la rosa compatta, eh, questi bouquet molto compatti con poco verde, una volta invece si valorizzava anche si facevano i bouquet cascanti, si facevano i bouquet proprio classici da sposa. Sì, dipende. Che era tutto un altro tipo di lavorazione. Eh, era un'altra cosa, sì. Ok, direi che il bouquet è pronto. Esatto, vai. Mi piace? Molto bello. Dagli una bella legata stretta e poi lo mettiamo nel nostro fior d'acqua. E domani mattina poi lo finisco. Questo si sta già presentando, eh? Sì. Bello bello, grazie Bruna. Grazie Bruna. Allora andiamo a tagliare un po' quello che sono le foglie sotto, eh? Queste qua. Sì. Così andiamo a coprirle poi dopo con... Grazie ragazze. Ok. Bene. Ciao, a dopo. Grazie a tutti.